Perché il tuo cane si lecca le labbra? Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio e sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il primo amico a quattro zampe Devi sapere che se ti è capitato di vedere il tuo cane che si lecca le labbra dietro a quel comportamento c'è molto di più Devi sapere che il comportamento messo in atto dal tuo cane non è un semplice e banale comportamento utilizzato per andare a captare il gusto dei cibi Quello che stiamo vedendo è un comportamento chiamato segnale calmante ovvero un segnale che i nostri cani utilizzano per andare a comunicare il loro disagio e cercare di riequilibrare l'interlocutore nel momento in cui c'è una situazione potenzialmente stressante Quindi non è difficile andare a notare questo comportamento ad esempio quando vai a sgridare il tuo cane o quando gli impedisci di fare una determinata azione o quando vai a fare richieste che il tuo cane non riesce a leggere Ma allo stesso tempo questo comportamento lo possiamo ritrovare anche nella comunicazione tra cani soprattutto quando due cani vanno a socializzare e vanno a creare un'interazione Quindi da adesso in poi se vai a leggere questo comportamento del cane saprai che questo è un segnale calmante legato ad una situazione di potenziale disagio Fammi sapere che cosa ne pensi di questo argomento nei commenti Ricorda di seguirmi e di lasciarmi un like Grazie a tutti